Lavoro di Verpona, da oggi Ma perché ho gioco a spazio di Verpona di nuovo? Ma come che oggi vuole proprio nessuno di Verpona? Cioè sono state fattute la manca Cioè per me è vero una tavola Ma da chi fa andare in ritorno se volevo giocare sull'andata? C'è già una mastacra donna Sono stato mastacrato senza io ragazzi E vai Vai E tira Vai vai Ottimo intervento nel portiere Per cui il succhi Si parte col corner per i dati Ottimo al corner Allora spazzato via bene dalla difesa Visto Ottima lettura del difensore che ha capito tutto a recuperare il pallone Prima va Prendiamo qua A presto falloso Cheere? Cosa? Che re? Maaah! Vi steppare sto luffo! C'è ogni fallo che faccio è scuffito a me! Stico Magna Gatti! Oh, che c'è qua? Non so, tre urso a fare una cagate chiesa! Insigne! Ottio, cerca l'area di rigore! De li sverdero! No, la miglia sta qua! Anderson! Sada! Va con il tuo stesso panna! Buona la chiusura! Trova la buona presso! Se vuoi rire! Mentre il chat! Bene qui il difensore! Chiudo la linea di passaggio e ha riconquistato panna! Il culo tenso e il culo immerto! Mare Camsi! Sto leggando la macchia, la miseria! Si! Libera! Intermetto tempestivo del difensore che intercetta il passaggio! Punta l'area! Valla schizza via dopo il contrasto! Oh! Cresciunca! Cresciunca! Sada! Vattrini uscela! Curevani! Il passaggio! Il passaggio! Pallone in parolaterale! Enrico! E' in resciutto! E' in svelta! A metri all'involizione! Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio Attacca il giocatore del Napoli Gula Mertens C'è stato l'unico E' un po' di mezzo con questo pallone E' magnate lo stuponfitto Fischia albiro Quanto manca Davvero pregevole Ha scelto bene il tempo Ha colpito di testa Superando il portiere Sì, è davvero una bella giocata Insigne Mertens Palla Hai spulso un giocatore sto giocando in dieci Io ho già in undici perduto In dieci proprio In dieci proprio In dieci proprio non lo so Palla di battuta Non si trova a sorprenderlo Aaaaaaaah Qui sarà il corner per il Liverpool Palla messa in mezzo da Eber No Che parata Che parata Pattolo Hanno interrotto l'azione avversaria Ricoperando palla a centro campo Un kill il non è con il ballone il pallone in mezzo il pallone in mezzo io la parlo invece di vestirlo che c'è il pallone in mezzo la difesa la media e lontane il pallone ma non faccio per andare in contropiede nulla bravo non si possono sprecare casi del genere ti a doveva metterla dentro occhio al suo movimento un ruolo di merckens no no ti e rigoro è una cosa però sbagliata a far rosso sbagliata a far rosso provo a essere utile e te penso con questo pallone sto giocando in dieci a far passare gli appalti hanno preinteso il rosso a roba è il bandello andiamo qui il difensore che legge bene questo pallone fermano la mano a Pezzani e occhio cerca l'area di rigore e tira maledetto tira maledetto non 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 il primo possesso di questo secondo tempo per il livello ragna metri bravo qui il difensore recupera un buon pallone sbaglio sbaglio intercettato svetta quella minaccia isai cerca la sovrapposizione lì l'esercizio sbaglio 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 sto giocando in dieci attenzione come sto giocando in dieci ma il vullibale guarda 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 avanti c'è la ballena si avvicina all'area attenzione pericolo oh 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 stai mangiando cosa dico mi sentono qui in inglese che sto dicendo you are eaten in the casa teo che gli vedi che sto guarda teo questo vince sto giocando in dieci in dieci sto giocando in dieci sto giocando in dieci ragazzi non credo che potesse fare comunque molto e molto fuori a Cristo non partendo molto onesto molto onesto molto onesto grazie in del in 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 si in oh gula ooo kai e con risveglia ma ci mancano uno difensore a me annaccia la miseria è un attaccio passato e non da voi recupera la palla si sta cercando bene il pallone oh Rigo ho ah mamma mia che occasione su questa qui è ancora qualche ora per la speranza delle due squadre caglie con ma dove fu? ho tirato la lettura di Pensione che ha capito tutto a riparare il pallone dove fu? e si segne e si segne infatti che sta laggando non toccava in un vasco scherzo secondo me ha chiuso il bocchio e ha cacciato cercando solo la potenza non farà sicuramente vedere bravo comunque è bravo buonissimo vincerà questo si devo stare molto attento solo che sto giocando con un giocatore in meno interrompe bene l'azione in cacciata di lancio sto giocando con un giocatore in meno e sta laggando le stocca davvero un cacchio il stadio è una meraviglia il pubblico si sta dimostrando il quondicesimo come in campo con un giocatore in meno 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 mangiando questo confianto adesso vieni a questo vieni a andare vai 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 ma non lo so non lo so ma non lo so non ne so mangiando ma non lo so non lo so ma non lo so che si è fuggito questo frate ma ti piace paura,brother è piada paura questo è giugnante la connessione con la visione interrotta verrà analizzata per stabilire la finale la connessione sociale interrotta Sardegna calcoli tutta la partita ti interrotta una sola che fai? è partita successiva questa verrà analizzata per stabilire tutta la finale molto lo dice ma è peccato è una grande partita abbiamo vinto noi forza Napoli ciao ciao ciao